Siamo qui con Gianluca Barsi, il vice allenatore dell'Accademy Porcari. Innanzitutto complimenti per questa vittoria per 1-0. Quattro punti adesso sul Candeglia secondo e bisognerà vedere anche i risultati di giornata. Comunque, primo posto confermato e ennesima prestazione positiva della stagione. Probabilmente è stata anche la vostra maggiore fisicità ad avere la meglio sugli avversari nonostante comunque ci sia una base di assoluta forza e predominanza a livello anche di controllo della partita. Quindi un'analisi anche di questo 1-0 e un commento. Diciamo che è stata una vittoria da squadra vera perché per stare lassù bisogna anche saper soffrire e oggi l'abbiamo dimostrato decisamente. Ci siamo anche rimenzionati in corso della partita perché se era partito in una maniera abbiamo saputo cambiare e diciamo soffrendo ha portato i propri frutti. E quindi diciamo speriamo di mantenere il suo rullino in marcia e andare avanti su questa linea. Complimenti allora un po' colpo per il proseguire della stagione. Grazie. No, soffruto io invece del mister perché era nudo quindi si andava sulla pornografia. No, magari la evitiamo quella. Complimenti, grazie. Ciao, ciao.